musica 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 dai Giorgio no Giorgio dai stasera mi riprendi non adesso fuori a mano perché a lui the yellow knife no basta si va bene carino se fai da dietro e perchè cia l'uomo no ti sto riprendendo prego prego non mi riprenda tutto la parolacci cico co caro aspetti che adesso scendo dopo riprende anche quella signora l'aria l'ho ripresa, l'ho ripresa ha fatto tante storie ma gli piace sa che sia bella ragazza questa sera c'è la notte di vita a Corridonia venite numerosi, intervenite numerosi è l'ultima, pensiamoci a la notte dei morti perché dopo finisce tutto fate anche voi il burlesque? tu fai il burlesque? io lo faccio solo per pochi indipi per uno solo per tuo marito, l'attore